La destituzione del presidente egiziano Morsi da parte dell'esercito ha ricevuto un caldo benvenuto sui mercati azionari. Alla chiusura la borsa del Cairo ha registrato un aumento del 7,32% mentre è sceso il premio necessario per assicurare il debito contro il fallimento. La scommessa di investitori ed analisti è per l'inizio di una nuova fase di opportunità. Credo che questo andamento positivo rifletta il sentimento di ottimismo degli egiziani a partire dal 30 giugno. Credo che con più stabilità e libertà politiche chiare nella prossima fase il mercato azionario si ritaglierà un ruolo importante. Recupera anche la lira egiziana da tempo ai minimi sul dollaro, una boccata d'ossigeno per la fragile economia del paese, le riserve di valuta straniera basteranno per altri tre mesi a coprire le importazioni di alimentari e benzina, con la crisi degli ultimi giorni che ha messo a repentaglio gli accordi per gli aiuti internazionali.